Il quaderno di campagna, per chi non lo conosce, lo descrivo come un sistema intuitivo, completo dal punto di vista delle informazioni che fornisce, indispensabile ormai per la gestione documentale delle aziende agricole. Io sono Coraggio Enrico, mi occupo di consulenza per aziende del settore agroalimentare dal punto di vista dei contributi nell'ambito delle certificazioni. Ho scelto di lavorare con il quaderno di campagna per ottimizzare i tempi, avere un lavoro più puntuale e corretto possibile e per dare un servizio più completo ai miei clienti. Il quaderno di campagna è un software che mi permette di elaborare dati di più clienti e di avere puntualità nel servizio offerto ad aziende. I vantaggi di avere tutto online sono che mi permette di lavorare dall'ufficio o da fuori ufficio in quanto i dati sono salvati sulla piattaforma attraverso l'accesso riservato e questo permette di poter inviare i documenti alle aziende che lo richiedono in qualunque momento dell'anno. I risultati ottenuti con l'utilizzo del quaderno di campagna sono sicuramente una puntualità nelle informazioni e nei documenti inviati alle aziende e agli enti preposti per i controlli. Il più grande vantaggio che mi dà il quaderno di campagna è comunque il costante e continuo aggiornamento che viene proposto nelle varie revisioni e nel costante aggiornamento delle etichette ministeriali dei prodotti fitosanitari utilizzati. Mi consente di fornire alle aziende un servizio più completo e puntuale. Consiglierai di utilizzare il quaderno di campagna ad aziende e a strutture che cercano puntualità e documenti che rispettano i requisiti normativi e che vogliono risparmiare tempo.